Musica Buongiorno e benvenuti nella resegna stampa di oggi venerdì 6 settembre 2019 Benvenuti cari telespettatori di FanoTV, sento un profumino di caffè quindi probabilmente state già affrontando la mattinata per partire con energia e allora vi diamo noi la spinta con la rassegna stampa, la lettura dei giornali così uscite informati, perché uscite informati è sempre una buona cosa e allora cominciamo quindi dal santo, così almeno sapete anche a che santo rivolgervi oggi oggi potete rivolgervi a San Zaccaria, è stato un profeta oppure a San Leopoldo III che era chiamato anche il Pio o padre dei poveri il sole sorto alle 6 e 37, alle 19 e 35 invece tramonterà e vediamo il tempo, l'altra informazione importante prima di uscire di casa è che tempo farà oggi, oggi bisogna portarvi all'ombrello o comunque bisogna ripararsi perché arriverà la pioggia avremo una bagnatina intorno alle 10 di questa mattina poi dopo il Pio arriverà perlomeno nella zona di Fano mi riferisco a chi ci segue da Fano, dal pomeriggio ma diciamo che, come vedete dalla grafica della protezione civile delle Marche che anche oggi ha messo il suo bollettino meteo sul sito internet della regione Marche ci saranno precipitazioni sparse nelle zone interne diffuse lungo la costa, prevalente carattere di rovescio temporale i fenomeni potranno presentarsi localmente anche di forte intensità e tenderanno ad esaurirsi gradualmente in serata le temperature anche per effetto del maltempo diminuiranno i venti saranno di moderata intensità il mare sarà mosso il fine settimana si presenta invece con ancora deboli precipitazioni sparsi a carattere di rovescio temporale però più probabili nella tarda mattinata di domani e nelle ore pomeridiane temperature in diminuzione, ancora venti deboli, mare poco mosso per quanto riguarda la giornata di domenica credo che per chi aveva intenzione di andare al mare almeno nella provincia di Ancona e di Pesaro ci saranno poche chance ancora nel pomeriggio probabili fenomeni soprattutto nel centro nord della regione le temperature sono in lieve aumento ma comunque il mare sarà poco mosso e comunque dicevo non è tanto da mare speriamo nella prossima settimana per quanto riguarda i prossimi giorni quindi da lunedì in poi ancora bassa probabilità di precipitazioni sulle marche nei primi giorni e quindi tempo variabile adesso i giornali partiamo dal Corriere Adriatico edizione di Pesaro e Urbino in primo piano il titolo d'apertura è per il piano di riqualificazione tra il comune di Pesaro e l'Erap sulle zuccolette che perdono i pezzi il complesso va transennato il tetto è a rischio a centro pagina la buona notizia che arriva da Visso la città terremotata il nido i pulcini passa da 2 a 12 iscritti più bambini dunque di prima nell'asilo del sisma il sindaco dice fantastico una mamma voglio che mio figlio cresca qui come me auto contro una moto sulla cronaca di Fano sotto sciocco un 89enne che era al volante dopo doppio schianto invece in poche ore il traffico in tilta a Fano il ragazzo è stato portato dall'elisoccorso alla torrette di Ancona la pagina di Pesaro del resto del Carlino eroe per caso la storia di questo uomo che vede uno scippatore lo blocca dopo averlo inseguito poi 5 rotatorie in rampa di lancio 2 saranno realizzate a sempre a Pesaro in via Lombroso ci sono i progetti e poi presa con la droga nel reggiseno la portava in carcere è stata subito arrestata rifiuti la discarica di Calucio sarà ampliata è arrivato anche l'ok e poi lo show in piazza del popolo a Pesaro Hungerfest è l'uomo che ballò sulla ruspa ecco qua la ruspa e guardate l'uomo che fa le sue evoluzioni parla la gente aggredito in via Rossi era una furia poi a Urbino il festival del giornalismo culturale e Galleria Roma sempre a Pesaro il tetto non basta dopo il restyling i commercianti sollecitano altri interventi vediamo la pagina di Ancona del resto del Carlino razzismo e minacce bufera sul bus il video shock mail intimidatoria al consigliere che ha pubblicato su Facebook sulla sua pagina il video di una donna di colore che si era seduta sul posto riservato ai disabili e che non voleva alzarsi anche se lì vicino c'era una donna più anziana che aveva necessità di sedersi la donna è rimasta lì questo video che ha pubblicato un consigliere ha fatto polemica e qualcuno gli è scritto minacciandolo per quel video pubblicato qui invece siamo sulla pagina di Macerata note tricolori il concerto da tutto esaurito in arena a Macerata nello Sferisterio per la banda dei Carabinieri la pagina di Fano auto contro scooter grave a un ragazzo ferito e sotto shock un 89enne al volante dicevamo di questi due incidenti che ieri hanno reso la vita difficile alla polizia locale hanno impegnata per parecchio tempo c'è stato uno schianto nel quartiere di Gimarra i mezzi spostati prima dell'arrivo dei vigili e quindi caccia e testimoni giornata campale per la viabilità allora il primo incidente dicevamo uno scooterista fanese di 36 anni volato a terra poco prima a causa dello scontro contro un'automobile condotta da un 89enne ieri mattina intorno alle 10.45 poi l'altro scontro invece poco più tardi alle 12.40 in via del Ponte siamo nella zona dell'ex zuccherificio un colpo lieve ma sufficiente a far cadere a terra un centauro un fanese di 26 anni che è stato poi trasportato in ambulanza il 118 al pronto soccorso del Santa Croce in lese invece la conducente della vettura una fanese di 52 anni porta la droga in carcere al fidanzato è stata arrestata una 39enne di Pesaro l'aveva nascosta nel Reggiseno ma gli agenti se ne sono accorti e dunque dopo essere stata arrestata all'ingresso la donna è stata portata direttamente in cella nuovi e siamo ancora su Fano questo è il Corriere Adriatico nuovi lungomare il restyling li pagherà Chiaruccia nel senso che il ricavato della vendita dell'area di Chiaruccia destinata ad ospitare la clinica privata sarà destinato dalla giunta guidata da Massimo Seri a finanziare i due progetti distinti del nuovo waterfront di Lido Sassonia e Torrette Ponte Sasso questi due interventi risultano tra gli impegni più importanti assunti dal sindaco fallita la società La Perla ancora il Carlino dipendenti reclamano gli stipendi lo storico ristorante in Viale Adriatico in Viale Adriatico a Fano continua comunque l'attività tramite altri gestori nuovi carri di carnevale pronti i bozzetti martedì la commissione esaminerà i progetti pervenuti e ne sceglierà quattro il tema sarà le vie dell'eco casca il mondo casca la terra tutti giù per terra la giuria sarà presieduta da Riccardo Manservisi che è il direttore artistico di un carnevale importante come quello di Cento e insieme a Manservisi in commissione ci saranno anche i maestri carristi dell'associazione Fantasticento che sono Andrea Borghi e Andrea Busi che hanno vinto il premio come miglior carro dell'ultima edizione del Carnevale d'Europa la costumista Maria Letizia della Felice e l'architetto Stefano Marchegiani dalla carnevalesca ricordano che ai carri di prima categoria saranno corrisposti 40 mila euro IVA compresa mentre ai mini carri andranno 11 mila euro sempre IVA compresa non è escluso di questo se ne parla ormai da tanto tempo che la carnevalesca quest'anno però assegni un premio per il miglior carro che sia un po' anche da stimolo per fare dei bei carri e che saranno realizzati altri mini carri qualora ci fossero la disponibilità economica quindi potrebbero essere premiati sia i carri quelli grandi di prima categoria sia quelli più piccoli memoria al Filippo Montesi Sant'Orso non dimentica c'è un appuntamento per le ore 15 di domani al campo sportivo intitolato appunto Almarò ucciso morto il 22 marzo del 1983 a seguito delle ferite riportate una settimana prima nella missione Italcon Libano 2 ebbene ci sarà questo appuntamento appunto alle 15 di domani nel campo sportivo intitolato a Montesi per assistere alla presentazione del settore giovanile della società sportiva e della nuova squadra di calcio femminile per quanto riguarda le notizie dal comprensorio di Fano qui siamo sul resto del Carlino Sant'Orso un quartiere di Fano terra di nessuno ride contro le auto in sosta atti vandalici e spacconerie cresce la paura nel quartiere guida in autostrada siamo a Senigallia guida in autostrada guardando un film ecco il video questa è la macchina dove appunto si vede il conducente con il monitor eccolo qua un display bello acceso e chi lo ha fotografato insomma lo ha immortalato mentre era in autostrada e si stava guardando un bel film furbetti al volante caccia anche social automobilista con il telefonino acceso accanto il comandante della stradale giudica questo atto giustamente come gravissimo topi d'auto in agguato doppio blitz a segno rubati zaino e marsupio a Senigallia e tre castelli scattano denunce ed appelli bollette tari aumento del 18% siamo a Fossombrone cresce il mancontento in città per gli esercizi commerciali la maggiorazione è arrivata al 23% l'incremento è collegato alla bassa percentuale nella raccolta differenziata compostaggio cambiano le regole domani l'ultimo saluto al dottor Possanzini cittadino benemerito l'addio in cattedrale all'ex dirigente sanitario morto a 79 a 79 anni la cerimonia funebre è stata fissata alle 10 del mattino appunto in cattedrale il centro storico di Fossombrone muore dieci negozi hanno già chiuso scatta dunque l'allarme altri tre stanno per abbassare la saracinesca denuncia di Chiara Billi della minoranza e da Piobbico rinascimento in Passerelle la sfilata in costume al castello Brancaleoni e adesso invece andiamo sulle pagine di Pesaro del Corriere Adriatico Zoccolette l'incuria avanza ecco l'immagine molto eloquente di questo complesso l'oratorio della misericordia noto come oratorio delle zoccolette che è stato costruito dopo il 1770 come orfanotrofio femminile ha preso il nome degli zoccoli indossati dalle bambine il Comune l'ha ereditato dallo scioglimento dell'Irab l'Erap l'ha destinato ad alloggi popolari ma i lavori devono ancora iniziare c'è un piano di riqualificazione che coinvolge Comune ed Erap per realizzare questi alloggi pubblici ma sullo stabile di via delle vetrerie incombe lo scorrere del tempo a rischio soprattutto il tetto per Largo Aldomoro invece si parte dai sottopassi si allontana l'idea di poter interrare la statale adriatica ex chief invece si studiano clausole e garanzie per l'operazione la trattativa per riconvertire la struttura degradata in hotel siamo sulle pagine del Carlino ancora gli anziani a Marotta gli anziani della casa di riposo diventano mosaicisti domani si inaugura l'opera di 7 metri installata su un muretto del lungomare scoperte invece sempre a Marotta 42 auto senza revisione altre 9 non erano assicurate merito delle telecamere intelligenti che sono state installate Diotalevi dice da aprile ad oggi le violazioni hanno prodotto multe per 15.000 euro accolli al Metauro nido di Calcinelli ecco le tariffe aperte le iscrizioni alla seconda graduatoria si va dai 200 euro circa fino ad un massimo di 362 a seconda dell'Isee per quanto riguarda San Lorenzo invece Scuola Bus il servizio è attivo sarà attivo dal primo giorno di scuola quindi il 16 settembre a San Lorenzo il campo il servizio di trasporto per gli alunni dell'infanzia della primaria e della secondaria di primo grado andiamo sulla pagina del Carlino di Pesaro via Lombroso in arrivo due rotatori previste nell'area dell'incontro con la strada dei Colli e poi altre tre rotatorie in altre zone l'assessore Belloni dice assecondiamo le richieste dei residenti poi la viabilità cambierà con l'interquartieri carreggiata ristretta di fronte alla nuova sede della Renco lamentele degli automobilisti per la modifica che riduce l'uscita della rotonda ad una corsia come vedete insomma qui prima si viaggiava su cioè due macchine ci viaggiavano tranquillamente adesso c'è questo ristringimento proprio dove qua è stata c'è l'ingresso della nuova sede della Renco controordine il cavalcavia non chiude a breve prima il monitoraggio del traffico sulla statale sempre a peso in base ai risultati dei flussi il comune deciderà se far slittare a gennaio i lavori al ponte di via Lamarca anche il Corriere Adriatico dà spazio alla notizia di questa donna che porta in carcere tentava perlomeno di portare in carcere della droga alla fidanzato è stata subito arrestata duro il sindacato sappe della polizia penitenziaria ci sono stati decine di controlli e sequestri nei giorni scorsi con la pioggia nel mirino sono finiti i venditori di ombrelli è la lotta all'abusivismo commerciale che anche a Pesore senza sosta due settimane di controlli in spiaggia e quando piove poi il bersaglio diventano subito i venditori irregolari di ombrelli in centro storico ancora dai giornali nella nostra rassegna stampa andiamo nelle notizie in breve del Corriere Adriatico Piazza Redi sempre a Pesero piccioni uccisi un atto gratuito di crudeltà ci sono animali urbani che in un'ipotetica graduatoria di gradimento restano saldamente ancorati nelle ultime posizioni sono i piccioni e per una serie di motivi molto molte volte frutto di pregiudizi perché i piccioni sporcano perché prolificano perché sono invadenti e quindi qualcuno a volte pensa di passare alle maniere sbrigative agente all'ospedale il nigeriano resterà in carcere ancora la cronaca tra i capi di accusa anche la tentata rapina critici i sindacati di polizia stiamo parlando del nigeriano di 22 anni che mercoledì aveva aggredito due agenti di polizia in via Rossi a Pesaro Urbino capitale del giornalismo culturale ieri la presentazione a Roma Mazzoli e Zanchini Zanchini dicono il tema sarà il viaggio organizzato dall'istituto per la formazione e dall'università il via il 3 ottobre e poi i lampioni sempre sulla pagina di Urbino i lampioni presi a fiondate il sindaco di Urbino Gambini dice riparazione fatte in vane il comune assicura che interverrà per ripristinare l'illuminazione pubblica nel quartiere di Urbino 2 ma occorre anche vigilare perché le lampade non vengano rotte come accade purtroppo di continuo siamo sempre ancora sulla pagina di Urbino però questa volta del Corriere Adriatico cubature ridotta seconda vita per Calucio da oggi riapre la gestione operativa di Marche Multiservizi stiamo parlando della discarica di Calucio sì all'ampliamento dalla conferenza dei servizi via prioritaria per 33 comuni e imprese del territorio ancora dai quotidiani andiamo su Valle Foglia Valle Foglia maleducati e rumorosi centro in degrado esposto dai residenti delle forze dell'ordine raccolta di firme di chi abita tra piazza dei quartieri e della Repubblica e anche il circolo chiude per solidarietà e poi il biciclo ottocentesco a Ferminiano scatta oggi in centro la 34esima edizione che propone un fitto calendario di eventi paralleli Mondolfo non deve perdere la cacciata ci sono soluzioni per il gioco in sicurezza la proposta dell'ex sindaco Gaetano Vergari per al comune per mantenere la sfida della palla con il bracciale poi il ricordo di Federico Talè dice Leonardo mi ha commosso parlando del libro pubblicato dopo la morte di Leonardo Fulvi Ugolini morto solo a 23 a soli 23 anni per una malattia e quindi il consigliere regionale che dice appunto mi ha commosso mi ha commosso soprattutto quello che Leonardo ci ha lasciato in eredità con queste belle poesie giornalismo culturale il festival che unisce le marche presentato a Roma un'edizione itinerante e il tema sarà il viaggio come abbiamo già visto chiudiamo con questo appuntamento un appuntamento che in esclusiva in anteprima assoluta abbiamo trasmesso l'anno scorso che riguarda questo documentario molto bello realizzato da Paolo Alberto del Bianco e Gastone Mazzanti che hanno raccolto veramente un materiale incredibile inedito in molti casi sulla città di Fano durante la seconda guerra mondiale ebbene che cos'è perché oggi sono sul giornale Mazzanti e del Bianco perché c'è un appuntamento un appuntamento al cinema Politeama alle 20 e 30 di questa sera quando verrà realizzato una proiezione una proiezione che sarà ovviamente più breve rispetto a quella che vi abbiamo trasmesso noi su Fano TV in esclusiva assoluta e che andrà appunto che verrà proiettata questa sera alle 20 e 30 un bel documentario sintetizzato che potrete vedere al cinema Politeama andiamo prima di salutarci a vedere di nuovo le prime pagine del Corriere Adriatico e del resto del Carlino le edizioni di Pesaro le zoccolette perdono pezzi in apertura il complesso va transennato piano di riqualificazione tra comuni di Pesaro ed Erap ma il degrado avanza il tetto è a rischio a Visso invece la città terremotata il nido i Pulcini passa da 2 a 12 iscritti e c'è gioia c'è gioia per questa rinascita che passa anche attraverso queste cose passa anche attraverso dei bambini che si iscrivono vengono iscritti all'asilo il sindaco Tantene di Visso che dice fantastico una mamma aggiunge voglio che mio figlio cresca qui come me la cronaca da Fano auto contro moto un ferito sotto sciocco un 89enne che era al volante doppio schianto in poche ore traffico in tilta a Fano il ragazzo è stato portato all'elisoccorso di Torrette uno scuterista fanesi di 36 anni è volato a terra in Viale Romagna siamo nella zona di Gimarra a causa dello scontro con un'automobile condotta da un 89enne il giovane è stato portato a Torrette nelle ambulanze dove si è escluso comunque il pericolo di vita sotto shock l'anziano giornata campale per la viabilità fanese come abbiamo visto in rassegna stampa l'altro incidente è avvenuto qualche ora dopo invece nella zona dell'ex zuccherificio questa invece è la prima pagina del Carlino di Pesaro droga nel reggiseno la portava in carcere presa col regalo al compagno detenuto la discarica di Caluccio sarà ampliata arriva l'ok a centro pagina invece racconto la storia di questo di questo uomo che è stato definito eroe per caso ma quando ha visto uno scippatore non ha esitato a bloccarlo dopo averlo inseguito galleria Roma il tetto non basta dopo il restyling i commercianti sollecitano altri interventi poi Hangart Fest e l'uomo ballò sulla ruspa in piazza del popolo a Pesaro siamo qui di spalla poi sotto in via Rossi parla la gente aggredito che dice era una furia e poi come abbiamo visto il festival culturale del giornalismo che avrà come tema storie di viaggio è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi ricordo che alle 7.30 per chi ci segue in diretta ci sarà in collegamento da Loreto la Santa Messa vedo che è un appuntamento molto seguito in tanti ci ringraziano per questo appuntamento con la Santa Casa di Loreto e poi oggi c'è il Papa che continua il suo viaggio apostolico quindi avremo delle dirette anche nella giornata di oggi grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale grazie a tutti grazie a tutti